amici di g case buongiorno ancora dal lago di seo qui siamo a parzanica in una delle zone più incredibili e panoramiche di tutta la provincia bergamasca oggi abbiamo deciso di coccolarvi un po solo per voi in esclusiva possiamo mostrarvi questo appartamento in anteprima è un grandissimo appartamento con una terrazza panoramica da togliere letteralmente il fiato scrivetemi su whatsapp al 320 033 4332 e vi avvierò tutte le foto e i dettagli che vorrete potete essere i primi a vedere questo appartamento e a comprarlo Grazie a tutti